Buongiorno a tutti, fratellini e sorelline, buon lunedì e buon inizio di settimana. Eccomi qui, eccomi qui nel mio angolino di casa, dopo una settimana davvero intensa, dopo tanto amore ricevuto. Se dovessi dirvi quanto amore ricevuto, ho fatto il carico, ma tanto. Il carico di affetto, di amicizia, di abbracci, di baci, di occhi luminosi. Grazie, grazie, grazie a tutti gli amici di Salerno, di Intorni, di Avellino, di Pompei, di Napoli. Grazie, grazie, vorrei ripeterlo all'infinito. E davvero, dovunque vado, ci si mette in marcia, in macchina, per venire a incontrare questo omino piccolo, questo prete piccolo, perché io mi sento sempre piccolo, piccolo, piccolo. E davanti a voi, ancora più piccolo, perché lodo la grandezza di Dio e le meraviglie che il Signore opera. E quando io posso darvi una carezza, quando vi incontro, per me è una gioia immensa. A volte mi sento anche in imbarazzo, perché le vostre parole sono bellissime. Questa mattina, molto presto, io mi alzo presto, dormo poco. Perché cambio talmente tanti letti, che poi alla fine ormai il mio organismo si abitua a dormire poco. E sono messo davanti a Gesù, davanti al crocifisso. E seguendo uno schema di preghiera, c'erano due domande, due domande che Gesù mi rivolgeva. Io queste domande le giro anche a voi, come se Gesù questa mattina le ponesse a voi. Fate questo esercizio, fate questo esame, non dovete rispondere a me. Rispondete a Lui, al Signore, che vi chiede Cosa vuoi dirmi e di chi mi vuoi parlare? Cosa ti voglio dire io, Signore? Te lo dico pubblicamente, dinanzi a migliaia di fratellini e sorelline. Innanzitutto ti dico che ti amo. Ti dico che sei la presenza più bella nella mia vita. Ti dico che sei l'amico, lo sposo, il padre, il fratello, il Signore, il Salvatore. Ti dico che davanti a te rimango sempre incantato. Ti dico che quando ti guardo i miei occhi si riempiono di luce, perché è quella luce che viene da te. Ti dico che quando ti contemplo mi commuovo. Ti dico che non potrei pensare la mia vita senza di te. Ti dico che sono miserabile. Ti dico che sono povero, ti dico che sono misero, ti dico che sono niente. Ma con te, con te divento sacerdote. Sacerdote che celebra, che amministra, che perdona, che consacra, che parla, che cammina. Sacerdote che ama, perché tutto ricevo da te. E di chi ti voglio parlare? Di tutti loro che sono qui davanti a questo video. Che ogni mattina hanno la bontà di accendere questo canale e di ricevere un messaggio. Ti presento tutti questi fratelli a uno a uno. Non ne dimentico nessuno, non escludo nessuno. A uno a uno. Te li presento tutti, perché tu me li hai fatti incontrare. Tu me li hai fatti conoscere. Loro mi appartengono e loro ti appartengono. E io li curo con tanto amore, perché tu un giorno mi potrai dire, Tu hai curato i miei figli, me li hai curati, me li hai amati, me li hai protetti. Dalla lupo che li voleva sbranare, dal diavolo che li voleva afferrare. E io ti dico, proteggi tutti. Signore, di chi ti voglio parlare? Dei miei amici che vivono nella malattia. Dei miei amici che dovranno operarsi. Dei miei amici che lottano con un male brutto. Di loro che hanno bisogno del Tuo aiuto. In casa, in famiglia, tra i figli, al lavoro, a scuola. Di loro che si sentono piccoli come me, perché Tu sei il grande, Tu sei il Signore. Di chi ti voglio parlare? Di tutti. E su tutti. Scenda forte. Adesso, in questo momento, la Tua Santa Benedizione. E ci avvolga con potenza e forza. E tutti ti diciamo, Ti amiamo, Signore. Ricevete la Santa Benedizione. E iniziate con Gesù e Maria questa giornata. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Voglio soltanto dirvi che alle 16.20 io pregherò il Santo Rosario nella mia chiesetta e lo farò in diretta sul canale YouTube Don Francesco Cristofalo. Voglio dirvi che il 13 marzo sarò a Milano, alle 18.30, alla libreria Ubic, Monterosa, via Monterosa 91. Voglio dirvi che il 7 marzo sarò a Simeri Cricchi, nella sala consigliare del comune, alle 18.30. Voglio dirvi che il 10 marzo sarò a Cutro, nella sala polivalente del comune, alle 17.00. E vi do un altro soltanto giorno, così gli amici di Licata e dei dintorni della Sicilia si possono organizzare. 21 marzo, ore 17, Licata, chiesa di San Rocco. Vi voglio bene, assaissimo, assai, grazie. E scusate se stamattina sono stato più lungo, ma dovevo parlare a Gesù, di tutti voi, perché tutti voi avete bisogno di Gesù. Vi abbraccio forte. Grazie. Grazie.